studiare con più di un insegnante è giusto è sbagliato mi riferisco naturalmente agli studenti di pianoforte io penso che ci sia una grande utilità quando si è naturalmente ad un livello avanzato quando si è finito il diploma ad ascoltare altri punti di vista non necessariamente perché siano magari più giusti di quelli invece che già conosciamo ma anche semmai proprio perché è bello conoscere come sia possibile nella musica avere tanti approcci diversi e spesso poi complementari a me è capitato dopo il diploma di frequentare molti masterclass e alcuni di quelli per me sono stati fondamentali anche magari pochi incontri due tre giorni con magari docenti che non ho poi più rivisto ma che mi hanno lasciato un seme qualcosa che poi negli anni ho proseguito a sviluppare in questo senso quindi trovo e viceversa non molto comprensibile l'atteggiamento di alcuni docenti anche ripeto a livelli alti di perfezionamento quindi con studenti già maturi già più che ventenni che invece proibiscono ai propri allievi di ascoltare altre voci rispetto questo punto di vista evidentemente per un percorso coerente è importante avere una continuità didattica e quindi certamente per uno studente non sempre è positivo ascoltare tante voci diverse che magari si contraddicono una con l'altra però quando si è abbastanza maturi e quando si è pronti a scoprire qualcos'altro per uscire un po' anche dai binari in cui siamo stati abituati a viaggiare penso che il contrasto quindi con opinioni diverse possa essere comunque stimolante in questo senso mi piace pensare che l'insegnante di music ma anche di letteratura di arte di qualunque materia come dice daniel pennà che deve essere un po' un fusibile cioè non deve considerare l'allievo come una proprietà personale tanto meno una proprietà esclusiva ma al contrario deve semmai lui dare qualcosa all'allievo è lui quasi che è proprietà dell'allievo potremmo dire quindi che si dà come un fusibile che si infiamme quindi con la sua passione entusiasma e contagia anche gli allievi con l'idea evidentemente che ciò che lui trasmette agli allievi sia qualcosa che a sua volta l'allievo potrà trasmettere ad altri quindi l'idea che poi gli allievi possono in qualche modo viaggiare andare in giro per il mondo conoscere altri insegnanti e quindi venire a contatto con altri punti di vista non può essere secondo me che è un fatto positivo ciao